Con questo tutorial parliamo dei sistemi di numerazione. Iniziamo dal nostro sistema di numerazione, cioè il sistema in base 10. Abbiamo preso ora un esempio molto semplice dove andiamo a rappresentare le unità e le decine. Ad esempio, se io prendo una pallina, allora dico che questa è l'unità. Così andiamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e la decima pallina. Ora, ogni volta che ho 10 palline, quindi 10 palline di unità, le vado a sostituire con una pallina rossa, che è la decina, e quindi vado a sostituire in questa maniera. Quindi il numero 10 sostanzialmente è composto da una pallina rossa e 0 palline nere, cioè è il numero proprio 10. Un numero fatto in questa maniera sarebbe stato 11, 12, 13 e potrei andare avanti. Quando di nuovo qui all'interno ho 10 palline, le vado a sostituire con una pallina rossa. Ora utilizziamo questa idea per realizzare altri sistemi di numerazione con una base diversa. Vediamo ora come funziona il sistema di numerazione in base 2. Allora, voglio vedere come si scrive il numero 3 in base 2. Allora, qui all'interno vado a prendere 3 palline. 1, 2 e 3. Ora, all'interno di questo riguadro al massimo possono esserci o 0 palline o 1 pallina. Qui ne ho 3. Allora che cos'è che devo fare? Tolgo queste 2 palline e al posto di 2 palline nere vado a mettere qui 1 pallina rossa. Allora significa che il numero 3, scritto in codice binario, quindi utilizzando un sistema di numerazione binario, sarà 1, 1. Quindi 3 è uguale a 1, 1 in base 2. Vediamo ora come poter scrivere ad esempio 5 in base 2. 5 vuol dire che qui all'interno vado a mettere 5 palline. 3, 4 e 5. Possono esserci, abbiamo detto, 0 palline o al massimo 1 pallina. Ogni coppia di palline le vado a sostituire con le palline del colore successivo. Quindi tolgo 2 palline e vado a mettere una rossa. Tolgo 2 palline e vado a mettere una rossa. Ma qui all'interno al massimo possono esserci, abbiamo detto, 0 palline o 1 pallina. Ho 2 palline, allora che cos'è che faccio? Tolgo queste 2 rosse e ne vado a mettere una di colore giallo. Allora significa che il numero 5 in base 2 lo vado a scrivere come 1, 0, 1. E quindi 5 in base 2 sarà 1, 0, 1. E si indica con un pedice 2 la base con cui sto contando. Potrei fare un ragionamento di questo tipo. Metto qui all'interno una pallina gialla, qui una pallina rossa e qui una pallina nera. Quindi vuol dire che in base 2 ho scritto il numero 1, 1, 1. Potrei chiedermi il numero 1, 1, 1 in base 2 a che numero corrisponde in base 10. Allora, questo 1 corrisponde a 2 alla seconda e allora vado a scrivere 1 per 2 alla seconda più quest'altro 1, la pallina rossa, corrisponde a 2 alla 1 e quindi vado a scrivere come 1 per 2 alla 1 più quest'altra pallina nera corrisponde all'unità, cioè 2 alla 0. 1 per 2 alla 0. E allora a conti fatti ottengo 4 più 2 più 1, cioè corrisponde al numero 7. Consideriamo sempre il sistema in base 2. Questa volta ho aumentato il numero delle palline e abbiamo il colore verde, giallo, rosso e nero. Vado a considerare il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi sto considerando il numero 8 in base 10. Ogni 2 palline nere vado a mettere una rossa. Quindi tolgo 2 palline e metto una rossa, tolgo 2 palline e metto una rossa, tolgo 2 palline e metto una rossa e togliendo altre 2 palline e metto una rossa. Ora, qui devo fare ogni 2 palline rosse vado a mettere una gialla. Quindi tolgo 2 palline rosse e metto una gialla, tolgo 2 palline rosse e metto una gialla. Ma qui ho 2 palline gialle, al massimo possono esserci una pallina qui all'interno. Allora che cos'è che faccio? Tolgo 2 palline gialle e metto una verde. Allora significa che il numero 8 in base 2 sarà 1 0 0 0, cioè 1 0 0 0 in base 2. Consideriamo ora questo esempio. Qui ho inserito 11 palline, vuol dire che ho scritto il numero 11 in base 10. Voglio vedere in base 2 a cosa che corrisponde. Allora, ogni 2 palline nere metto una rossa e qui all'interno mi rimane una pallina nera. Poi, qui ogni 2 palline rosse vado a mettere una gialla e poi ogni 2 palline gialle vado a mettere una verde. Allora significa che il numero che ottengo è 1 0 1 1. Allora vuol dire che 11 in base 2 è 1 0 1 1 in base 2. Vediamo quest'altro caso. Allora, qui all'interno ho inserito 13 palline, 3 6 9 12 ed una 13. Quindi sto considerando il numero 13 in base 10. Vediamo che cos'è che corrisponde in base 2, sempre con la regola che ogni 2 palline di un colore vanno sostituite con il colore successivo. Vado avanti. Ora passo dalle gialle alle verdi ed ottengo il numero 1 1 0 1. Allora vuol dire che 13 corrisponde a 1 1 0 1 in base 2. Vediamo ora qual è il metodo generale per risolvere una trasformazione da un numero decimale a un numero binario. Allora avevamo considerato il numero 13. Per effettuare la conversione è sufficiente quindi fare una serie di raccoglimenti, cioè sto facendo delle divisioni. Quindi divido 13 per 2. Allora 13 diviso 2 fa 6. 6 per 2 è 12 e il resto è 1. Continuo la mia divisione. E faccio 6 diviso 2. 6 diviso 2 fa 3. 3 per 2 fa 6 e il resto è 0. Ora faccio 3 diviso 2. Quindi 3 diviso 2 fa 1. 1 per 2 fa 2 e il resto è 1. Vado avanti e divido 1 per 2. 1 diviso 2 è 0, quindi 0 per 2 fa 0 e il resto è 1. Il numero 13 in numero binario si legge in questo senso, cioè guardando i resti delle varie divisioni, cioè 1 1 0 1. E quindi 13 in numero binario sarà 1 1 0 1 in base 2. vediamo un altro esempio. Potrei prendere ad esempio 8. Allora 8 in base 2. Faccio 8 diviso 2 è 4 e il resto è 0. 4 diviso 2 fa 2 e il resto è 0. 2 diviso 2 fa 1 e il resto è 0. 1 diviso 2 fa 0 e il resto è 1. guardando tutti i vari resti in questa direzione posso dire che 8 lo posso scrivere come 1 0 0 0. Quindi è 1 0 0 0 in base 2. Vediamo ora come è possibile convertire un numero da binario a decimale. Consideriamo il numero 1 1 0 1 in base 2 e lo voglio trasformare in un numero decimale. Allora, questo 1 era l'unità iniziale, cioè quello che noi indicavamo con 2 alla 0. Questo 0 invece è 2 alla 1 come unità. Questo 1 è 2 alla 2 e questo 2 alla 3. E allora vado a scrivere che questo numero in base 10 è 1 per 2 alla 3, questo, più 1 per 2 alla 2, più 0 per 2 alla 1, più 1 per 2 alla 0, cioè 13 in base 10. Vediamo quest'altro, 1 0 1 0 1, allora vado a mettere la base che sarà 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4. Allora per convertire questo numero da binario a decimale farò 1 per 2 alla 4, più 0 per 2 alla 3, più 1 per 2 alla 2, che è questo, più 0 per 2 alla 1 e poi più 1 per 2 alla 0. E quindi a conti fatti otterrò il numero 21 in base 10. Vediamo quest'ultimo esempio, allora vado a mettere prima le varie basi, quindi 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4, 2 alla 5, 2 alla 6 ed infine 2 alla 7. E allora otterrò 1 per 2 alla 7, questo, più 1 per 2 alla 5, più 1 per 2 alla 5, più 1 per 2 alla 4, poi più 0 per 2 alla 3, più 0 per 2 alla 2, più 1 per 2 alla 1 ed infine 1 per 2 alla 0. E facendo questi conti ottengo 243 in base 10. Considero ora, come ultimo esempio, un sistema di numerazione ottale, cioè i numeri vanno da 0 a 7. In questo caso voglio trasformare 235 in base 8 in un numero in base 10. Allora, vado qui sopra e vado a mettere le varie basi, cioè 8 alla 0, 8 alla 1, 8 alla 2. Allora vado a scrivere 235 in modo posizionale, cioè 2 per 8 alla 2, più 3 per 8 alla 1, più 5 per 8 alla 0 e a conti fatti ottengo 157 in base 10. Vediamo quest'altro numero, 1746, allora sopra ci vado a scrivere 8 alla 0, 8 alla 1, 8 alla 2 ed 8 alla 3. Quindi, utilizzando sempre la scrittura di tipo posizionale, otterrò 1 per 8 alla 3, più 7 per 8 alla 2, più 4 per 8 alla 1, più 6 per 8 alla 0. E a conti fatti ottengo 998 in base 10. E con quest'ultimo esempio termino questo tutorial sui cambi di base. Grazie a tutti.